www.toscanabasket.it Ma prima di procedere alla presentazione dei nostri ospiti vi voglio preannunciare una gustosa novità per voi amanti del basket perché domani avremo una trasmissione speciale di Toscana Basket dedicata al derby di Livorno che come tutti voi saprete si giocherà domenica prossima. Quindi appuntamento con lo speciale di Toscana Basket sul derby labronico domani alle ore 21 non alle 20.30 ma alle 21 saranno in studio il presidente della Caffè Toscano PL Livorno il dottor Francesco Farnetti e il direttore sportivo della Libertas Gianluca Mannucchi. In più avremo in collegamento telefonico i due coach Marco Cardani della Caffè Toscano PL e Marco Andreazza della Aken Libertas. Quindi appuntamento da non perdere domani alle 21.00. Ma adesso andiamo a presentare coloro che ci faranno compagnia in quest'ora e mezzo partendo dal dirigente della Caffè Toscano PL Manolo Burganassi. Ciao Manolo, c'è già un messaggio per te, sono già arrivati tre o quattro messaggi prima di iniziare e di questo ringraziamo i nostri amici telespettatori. Poi abbiamo con noi l'allenatore dell'US Rivolno sponsorizzato Wappala. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Finalmente ti ho dovuto un po' corteggiare quest'ora, vero? È giusto. È giusto? Va bene, ok. Poi è con noi il coach della Cantina Lorano Olimpia Legnaia, Riccardo Zanardo. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Che viene da Firenze appositamente per essere il nostro ospite e di questo ti ringraziamo. Grazie a voi dell'invito. Allora, fatte le doverose presentazioni, partiamo subito con i numeri andando a vedere quelli che sono stati i risultati della Serie B nazionale giunta al penultimo turno. Andiamo con la sigletta e poi con i risultati. I risultati della Serie B nazionale sono offerti da Caffetteria Enoteca Bistrò Madiba, Via della Madonna 56 Livorno. Eccoli qua, ovviamente andiamo come sempre a vedere i risultati delle Toscane. Bella vittoria di Piombino su Ovegna con sicurezza matematica dei playoff arpionata dalla compagine di Cagnazzo. Cagnazzo, poi Avellino vince a Montecatini Spondagema a D2. L'APL batte dopo un supplementario al termine di una partita appassionante giocata di fronte ad oltre 5.000 spettatori Irons. E poi la Libertas gioca una grande partita a Legnano vincendo 80 a 73. Andiamo a vedere anche la classifica, sempre grazie al nostro sponsor. La classifica della Serie B nazionale è offerta da Guglie, ristorante Enoteca, il locale degli sportivi Portamare Livorno. Eccola qua la classifica, allora qui mancano 40 minuti al termine della stagione regolare, ma soprattutto in testa le posizioni sono già cristallizzate. L'APL è sicura del primo posto, la Libertas del secondo, Irons del terzo. Gemma invece deve ancora conquistarsi il quarto, mentre Piombino è sicuramente nei playoff da definire la posizione, potrebbe arrivare dal quinto all'ottavo posto. Questo è il quadro della gradatoria, poi in fondo vedete Caserta matematicamente retrocesso, una triste fine per una compagine così gloriosa. Allora entriamo subito nel vivo della trasmissione, non possiamo non partire dalla bellissima partita, torniamo pure in studio, regia, dalla bellissima partita di ieri, l'esperimento Palamacchia ha funzionato. Palamodì, c'era talmente tanta gente, forse sopra ogni più rosa aspettativa, no Manolo? Sì, no, esattamente sopra le nostre aspettative, naturalmente è stata quasi una scelta forzata da quella che poi era stata negli ultimi tempi le richieste di biglietti per venire a vedere l'APL. Per cui sì, è stata una scelta felice che poi la risposta è stata sicuramente superiore alle aspettative. L'impatto che c'è stato è stato davvero importante per un derby che comunque è un derby tra PL e Montecatini, naturalmente non quello strascittadino, che ormai diciamo diamo quasi per scontato che fa tutto esaurito ormai da diversi anni. E fra l'altro conterà zero per la classifica, no? Perché poi è quella, la realtà dei fatti è quella. Sì, no, visto i risultati che si sono venuti a verificare nell'ultima giornata, da un punto di vista della classifica, non conta niente, però c'è sempre l'aspetto del derby, del sopravvalere l'una sull'altra che sicuramente darà a Pepe alla partita. Assolutamente sì, abbiamo qualche immagine. Tra l'altro un sospiro di solliavo, penso abbiano tirato sia Libertas che PL, no Marco? Perché il derby nel playoff non potrà esserci. Sì, avrebbe solo pagato più gli incassi, basta. In questo modo si giocheranno fino in fondo, speriamo, è un bel risultato, avere le prime tre, forse quattro Toscane, diciamo, nelle prime quattro porterebbe in alto il vestito del Gran Ducato. Il risultato del Gemma, esatto. Sarebbe un risultato super per la Toscana. Riccardo, tantissima gente a vedere il derby con Irons, tantissima gente ci sarà a vedere, il derby tra PL e Libertas, si parla, no, si parla sicuramente più di 8 mila, si parla addirittura di richieste per 12-13 mila. Questo significa che il movimento livornese, ma anche Toscano, è in grande salute, perché comunque anche lei da Montecatini c'erano circa 150 persone. Dice, bene Marco, intanto le due Montecatini le metto sotto solo per fare complimenti a Livorno, credo è la settimana. Questo weekend sia bella anche la cornice che porta al palazzetto, poi, della gente oltre dentro il palazzetto, sia una festa per la città che risponde presente, complimenti. Io da Fiorentino dico solo complimenti. Bene, entriamo dentro la partita, Madallo, una partita che la PL a un certo punto sembrava, non dico dominaria, ma comunque condurre saldamente. Era a più 17, a due minuti dalla fine del terzo quarto, poi c'è stato un blackout. Irons l'ha anche ripresa, ha messo anche la testa avanti e poi si è decisa al supplementare. Sì, è stata una partita, diciamo, per tre quarti dominata, con il terzo tempo dove ci siamo riusciti a scavare il solco. Poi c'è stato quel canestro un po' rocambolesco, tra l'altro di Giancarli e sulla sirena del terzo quarto, che naturalmente ha dato fiducia a Irons, che naturalmente è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Nel mente noi poi a un certo punto, presso questo break, è arrivato un po' forza il breccino corto. La paura di vincere, naturalmente Montecatini, da squadra forte quale è, ha dimostrato tutto il valore. Abbiamo rischiato grosso, fortunatamente poi siamo riusciti a guantare il supplementare. Poi la PL ha ripreso a giocare con più serenità e si è visto poi alla fine. Marco, Riccardo, fate voi, da coach mi insegnate che quando si subisce una rimonta come quella che ha subito la PL, nel supplementare non è facile, perché poi va detto anche che Irons con Benitez ha avuto sulla sirena anche il tiro della vittoria. Sì, è vero. È anche vero che comunque era spinta da tutti questi tifosi e da un clima non da poco. E comunque tutte e due le squadre sono veramente molto valide. Irons ha dalla sua un impatto fisico notevole, quindi ben organizzata. Il PL ha molta freschezza e lo dimostra tutte queste vittorie consecutive, quindi ha fatto un campionato veramente eccezionale. Assolutamente sì, 16 vittorie consecutive. Lo scorso anno eravamo qua da questa tribuna a magnificare le 13 consecutive di Irons. quest'anno ha fatto ancora meglio la PL. Al proposito, sulla presenza dei tifosi montecatinesi a Livorno, tengo a precisare, è arrivato un messaggio, erano oltre 400, quindi questo per essere precisi e non creare qui pro quo con i tifosi di Montecatinesi che ci seguono. Tantissimi, la PL l'ha vinta quando era più difficile da vincerla, è un paradosso ma è così, no Riccari? La partita credo si sia poi indirizzata, poi ho seguito un po' su Brilapè, non l'ho vista, poi ho letto qualche cosa. Ripresa in fondo, condivido quello che dice il coach. Sono due squadre super attrezzate per la categoria, dei roster lunghissimi. Irons ha un impatto fisico e ti permette di fare dei break e quel break poi l'ha portato all'overtime. Poi le rotazioni, i canestri e il mordente, anche credo di qualche singolo... Chiarini, ora poi ne parliamo ovviamente. ...della PL abbiamo fatto la differenza. Partita decisa poi su una situazione in fondo, ma hai detto te, di un tiro sbagliato. Allora, una grande squadra la PL con un grande solista, che è solista Manolo, soprattutto quando conta, perché dicevamo nel fuori onda, Chiarini può farne 10, 12, 15, 20 o 30 come ne ha fatti ieri, però li fa quasi tutti nei momenti che conta. E questo Manolo, tu d'ex giocatore... Esattamente hai detto benissimo, perché i campioni ce ne sono tanti, però Matteo non l'ha dimostrato solamente ieri, ma praticamente da tutto il campionato, che sa ritagliarsi il ruolo in qualsiasi partita. Sa ritagliarsi il ruolo di essere un po' meno protagonista quando magari ci sono suoi compagni che stanno andando bene, quindi magari rinunciare anche a qualche tiro. Ma soprattutto si accorge davvero leader, quale è, quando è il momento di prendere la palla e ci penso io. Ieri è stato determinante, come lo è stato in tante altre partite, per cui davvero un grande giocatore che fortunatamente gioca nella PL e a quale gli auguriamo naturalmente un grandissimo futuro. Allora, tanto per andare a far parlare i numeri, ne ha messi 30 e 36 di utilizzo, 5 su 12 da 2, 4 su 7 da 3, 8 su 10 a liberi e 8 rimbalzi. Una prestazione a tutto tondo. Tra l'altro Manolo, e coraggimi se sbaglio, anche dalla lunga distanza ha alzato le percentuali con il trascorrere delle partite. È un giocatore che ha qualità e risorse infinite, perché ha un cambio di passo, un'esitazione, un cambio di velocità da zero al massimo, che nella palacanestro, penso sia, e i coach, penso me lo possano confermare, la caratteristica più importante per un giocatore piccolo di basket. Poi, naturalmente, è un giocatore a 360 gradi, perché è utilissimo in tutte le fasi del gioco. I rimbalzi lo dimostrano gli assist e, naturalmente, ha anche questo tiro che sta migliorando sempre più e che gli permette poi, naturalmente, di essere immarcabile, perché se gli stai vicino c'è questo primo passo fulminante, se gli dai un metro ti dira e ti fa canestro, quindi sicuramente è un gran campione. Tra l'altro, poi, oltre a Chiarini, molto bene Rubini e Lobiondo, ne hanno messi 14 a testa, 12 anche di Pagani. Ecco, Pagani, Marco, è giocatore, secondo il mio punto di vista, più cresciuto durante il campionato della PL. Io ho visto qualche partita e vedo che Cardani le gestisce veramente bene, lui Diouf le alterna moltissimo. Ieri mi sembra che i due lunghi hanno giocato veramente bene contro una squadra fisica, quindi loro due molto bene. Tornando a Chiarini, mi sembra che abbia fatto anche una stoppata importante. Se dobbiamo trovargli in difetto, forse mi sembra che alcune volte sbaglia dei tiri liberi importanti. Uno con una mano come lui. Ieri però, nell'over time, li ha messi 4 su 4. Ultimamente non ha sbagliato qualcuno di più. Qualcuno di più, perché non te l'aspetti, perché è uno che è veramente una mano mortifera, magari. Però, insomma, PL sta giocando bene. Ieri mi sembra che è mancato un pochino Lowski e Lagana, forse, che magari in altre partite possono essere importanti. È un po' il marco di fabbrica della PL. Al di là di Chiarini, Riccardo, che ogni partita ha un protagonista diverso. E questo la dice lunga sulla profondità del roster a disposizione di Marco Cardani. Assolutamente. Lui prima parlava di Diouf, che è un giocatore che ha, secondo me, tanti minuti in una possibile altra squadra. Il coach riesce a gestire un roster profondo, riuscendo a capire anche qual è il momento giusto per mettere la pedina giusta. E non è scontato, quindi complimenti. C'è da dire, lo dico anche da coach, avere anche a disposizione dei giocatori così, poi devi metterli insieme. E poi i minuti sono sempre 200. Poi devi metterli insieme. Però dice bene, quando Chiarini magari fa 30, se c'è un altro che si accende, lo biondo, per esempio, ha punti nelle mani o dà la panchina. Complimenti, gli auguro di far benissimo. Di là 17 di Chiara, ma con 5 su 16 al tiro. Poi ne ha messi 19 a Rigoni, che ha giocato veramente molto bene. 8 su 11 da 2, 1 su 2 da 3 e 13 rimbalzi. Bella doppia per lui. 10 di Lorenzetti, 11 di Radunic, che non è stato al suo topo. Va detto che Ironz ha avuto sgobba a mezzo servizio, perché era un attacco influenzale. Però comunque anche Montecatini, Riccardo, sarà una squadra che ne potrà fare tanta, tanta, tanta strada. Si parla di un'altra squadra di tutto rispetto. Sgobba a mezzo servizio, però Radunic, Lorenzetti, Rigoni, Chiera, è un altro da canestre importante. Benitez, Giancarli entra dalla panca dell'uomo. Insomma, mi sembra... Una squadra forte. Se vogliamo fare la lista della spesa... I uomini ci sono. Il pranzo di Natale si fa, mettiamola così. Sgobba ha perso un po' di monetaggio. Sì, con l'arrivo di Radunic. Però è sempre un giocatore d'utile, lo puoi fare da tre, da quattro... Certo, Radunic dà tanta, tanta fisicità a questa squadra. Ci siamo scordati Benitez. Ecco, Benitez, che è un altro... Un altro corso che ha vinto il campionato giusto l'anno scorso. Esatto. Che è sempre cresciuto, veniva dalla Serie C vicino Spezia, insomma, quindi giocatore che... Un'altra squadra molto, molto, molto forte. Allora, andiamo a vedere se ci sono tantissimi messaggi, come sempre, eccoli qua. Questo ce n'è uno per te, Manolo, ma lo leggiamo dopo. Dice il nostro amico, se quelli di Montecatini erano 400, noi eravamo 10.000. Vabbè, comunque, diciamo che sicuramente c'era tantissima gente. E questo fa bene all'intero movimento. Poi c'è un altro amico che lancia questo messaggio. Buonasera, un solo dato. Tiri liberi tentati 31 a 9. Fate voi, ci vediamo ai play-off. Solo Irons, evidentemente questo è chiaramente un tifoso di Montecatini. Effettivamente il dato è che la Piale ha tirato 31 liberi e Irons ne ha tirati soltanto 9. È una caratteristica anche di come gioca Irons, se pensa. Di là di capire o meno l'arbitraggio, che poi si va in un campo minato, che è bene non fare. Naturalmente Irons gioca con determinate caratteristiche, naturalmente è forse un po' più propense, soggetta magari a essere colpita dal fischio arbitrale. Questo penso. È un dato di fatto. Non dovrei offendere nessuno. No, ci mancherebbe. Diciamo che la squadra... Una caratteristica delle squadre di Barzotti, che hanno giocato, mi ricordo anche quando era San Mignato, insomma, hanno sempre giocato con grande intensità e questo li porta a vincere tante partite, ma naturalmente il rovescio della medaglia è essere magari un po' più fallosi rispetto alle altre squadre. Sì, 27 a 17 il conto dei falli. Tra l'altro ci sono due amici che ci chiedono come mai è stato fischiato tecnico a Ferrara in relazione a 6 minuti dalla fine. È un particolare regolamento, già che ci siamo facciamo anche un po' di d'Ascalia. È stato fischiato il fallo tecnico a Ferrara perché mentre cercava di difendere sulla rimessa ha pestato la riga. Diciamo che a due minuti dal termine delle partite, come si vede, l'albito che fa questo gesto sulla rimessa. Praticamente il difensore non è tanto pestare la riga quanto deve, correggetemi se sbaglio, deve mantenere una distanza da chi sta facendo la rimessa. Questo avviene soltanto negli ultimi due minuti dalla partita. Se naturalmente il difensore, come si fa, purtroppo normalmente chiude questa distanza, naturalmente incappa nella sanzione. Sinceramente in tanti anni è la prima volta che lo vedo fischiare. Però il regolamento lo prevede. Se pesti la riga o tocchi il giocatore sulla rimessa è sistematico. Non è quanto la distanza ma proprio la linea. Il segnale è chiaro. Nemmeno c'è la rimessa. Deve entrare nel cilindro, diciamo così. Toccare la riga proprio. Deve stare fuori dalla riga, tipo alla stazione. Questo è un caso clamoroso a Castelfiorentino l'anno scorso. Lo scorso anno mi pare, Marco. Sì, sì, lo scorso anno. Chiaramente è un particolare regolamento che magari tanti telespettatori non conoscono. Poi, sempre ci sono diversi messaggi. Tralasciamo quelli di Sfottò tra le due tifoserie. Anche simpatici, ce n'è uno per te. Grande Manolo, ti dobbiamo tutto. Ognuno di 5.000 ti deve ringraziare per averci riportato lì a TifarePL. Grazie a te e a tutti quelli che ti hanno seguito. C'è un po' d'orgoglio per vedere dove è tornata la PL? Orgoglio naturalmente, forse è un po' troppo. Sicuramente sono felice di essere riuscito a mantenere un po' vivo quello che è stata questa società in momenti magari in cui le situazioni, come ho sempre detto, non nella storia PL, c'è sempre stato alti e bassi. In un momento di basso, naturalmente abbiamo tenuto duro io con altri amici e siamo riusciti a dare ogni anno qualcosa in più. Marco ne ha fatto parte in un bel periodo. Se si raggiunse una bella finale, anche in quel senso, purtroppo non è andata come è andata. Forse non è nemmeno tanto purtroppo, perché in quel momento non eravamo pronti per raggiungere forse questo obiettivo. Però ringrazio tanto i nostri... Noi c'eravamo però, abbiamo fatto le teleclonache di quelle tre partite. Sono sempre visibili sul canale YouTube del sottoscritto. Ringrazio, siete troppo buoni. Come? Ringrazio i nostri tifosi, sono felice di aver fatto quello che ho fatto. Ovviamente poi tutto questo è in merito anche di tutti quelli che sono ora all'interno della società che stanno facendo davvero delle grandi cose. Tra l'altro questa crescita della PL è stata fatta pian piano. Io mi ricordo che dopo la sconfitta per 3-0 contro la Libertas... L'anno prima si è vinto un campionato. Sì, esatto. No, perché sennò... No, infatti ho detto, Marco non ha fatto parte in... Eravamo anche lì, per l'altro. Eravamo l'unità di centro. E anche quello, scusami, avevamo otto punti di vantaggio sulla seconda. Poi c'è la play-off purtroppo, con diversi infortuni, tra l'altro perché Dell'Agnello, Buzzo e anche Siloti, hanno problemi fisici. Purtroppo abbiamo perso quelle tre partite con un ultimo canestro da metà campo. Di Marchini. In gara 2. In gara 2. In gara 3. In gara 3 fece il canestro da 3, da metà campo. No, in gara 2. Era gara 2. In gara 3. Sì. Era gara 2. Ormai eravamo... Era gara 2. Cosa volevo dire? Cioè, nel senso, dopo quella sconfitta, mi ricordo che parlavo con la dirigenza... Mi pare proprio con te, Manolo, si parlava di un eventuale ripescaggio, no? Voi non faceste neanche la domanda. Perché mi fu un risposto, non mi ricordo se da te o da Roberto Creati, che bisogna fare le cose per gradi. E col senno di... Io li dissi, ma, secondo me, si poteva fare. Invece, col senno di poi, questa crescita, pian pianino, che poi neanche tanto piano, è stata un po' la forza. Diciamo che, come dicevano i tifosi, qualche annetto che sono dentro questa società e ho avuto la sfortuna di vivere tutti i vari periodi. Anche nel precedente momento in cui eravamo in bid'eccellenza, quando in quei due anni che ci fu come dell'agnello Sandro e tornò a Buonaccolsi, insomma, fu fatto forse in quel momento lì, presi dal cuore, perché naturalmente la passione anche in quel momento era tanta, furono fatti dei passi un po', tra virgolette, più grandi della gamba. Ci furono anche altre situazioni di sponsor, eccetera, che contribuirono, sicuramente. Però, avendo vissuto determinati quei momenti, chi poi si è affiancato, ho sempre detto, facciamo un passettino alla volta, non abbiamo fretta, magari stiamo un anno in più dove c'è da stare, perché prima va consolidata la società, l'organizzazione, perché senza una grande organizzazione sotto non ci possono essere dei buoni risultati. La dimostrazione è quest'anno. L'arrivo di Gianluca Petronio sicuramente è stato determinante, perché insieme a Marco ha costruito quest'estate questa squadra che sta facendo bene. Gianluca ci sta dando una grande mano anche a livello organizzativo, societario, perché è una persona che ha una grandissima esperienza, è stato in società top, per cui, diciamo, un acquisto principe per quanto riguarda la società, sicuramente è stato Gianluca, e questo è sintomatico di quello che secondo me deve essere fatto. Ci possono essere le capacità anche di comprare giocatori, di fare squadre importanti, ma se poi dietro non c'è un'organizzazione che poi li supporti, li mette nelle condizioni di rendere al massimo, poi alla fine le situazioni non possono andare bene. Tra l'altro un ingresso importante in società proprio negli ultimi giorni, no? Certo, l'ingresso che c'è stato di Beppe Costa, sicuramente è un grande orgoglio, perché è una persona che tra l'altro non entra come solo sponsor, come avrebbe potuto fare, ma ha deciso proprio di entrare, comprare una quota società e di entrare a far parte del CDA. Questo sicuramente è un segnale importante per noi, per la città, perché anche da lì non ci aspettiamo che ci possa essere tutto e subito, nemmeno noi vogliamo che ci sia tutto e subito, ma sicuramente ci può aiutare anche da un punto di vista strutturale, societario e, ripeto, organizzativo, in quella fase di crescita che stiamo facendo negli ultimi anni. Questo lui sicuramente è un persona con la sua esperienza, la sua potenzialità ci può sicuramente dare una mano. Tra l'altro a testimonianza del grande interesse che il basket labronico suscita, si sta girando proprio una docu-serie che andrà, non si sa ancora dove, ma che comunque sarà composta di sei puntate da un minuto, da 60 minuti ciascuna, che racconterà un po' la storia del basket livonese, ma anche della città, Riccardo, e questo la dice lunga su quanto questo sport interessi. Probabilmente l'idea è nata dal grande successo di Scugnizzi, la docu-serie sulla Juve Caserta. Bella iniziativa. Ci sono già delle date? Quando andrà l'onda non si sa. Fine anno, la produzione dovrebbe ora girare, ora sta girando, si sono trasferiti qua in città, tutta la troupe, quindi gireranno già girato il derby di andata, hanno girato un paio di partite nostre di Libertas, gireranno tutti i play-off, poi sembrerebbe che a fine anno, a settembre-ottobre, fanno montaggio e poi a fine anno, in massimo primi mesi del 2025 dovrebbe essere pronta per il grande pubblico. Allora, prima di andare a parlare dell'altra scuola livornese, vale a dire della Libertas, voglio dire che a quel telespettatore che ha mandato il messaggio con la domanda per Riccardo, è un'altra domanda che erroneamente l'ho cancellato, tra i tanti, quindi se lo vuole rimandare, sono più che lieto di leggerlo. Andiamo alla Libertas, che è in grandissima forma, ha vinto la terza trasferta consecutiva, ha vinto a Legnano, e non era facile perché c'era la festa di addio al basket di Marino, tanta gente, la Libertas pronte via, 16 a 8, 38 a 22 all'intervallo lungo. La Libertas, Marco, fa della difesa, abbiamo qua l'imbagine, vedete quanta gente a questa partita, la Libertas fa della difesa il suo marchio distintivo, una scuola che al di là degli infortuni gravi di Terenzi e Lucarelli, è sempre molto molto difficile da battere. Sì, anche Marco Andreazza è un allenatore di un'ottima levatura, tra i migliori sicuramente della categoria, tra i primissimi della categoria, e la partita secca riesce sempre a prepararla al meglio, tipo il derby dell'andata, riuscì veramente a... Questa partita l'ha preparata molto bene, nonostante i due infortuni che ha di Lucarelli, di Terenzi che ha avuto, però comunque ha nove giocatori di fatto a disposizione. Quello che penso, il derby è sempre un derby, però la prossima settimana, secondo me alcuni... La Libertas deve preservare un pochino alcuni giocatori un po' più rispetto, diciamo, a PL, dove ha magari tanti giocatori freschi e giovani, mi immagino Fantoni o altri giocatori, Saccaggi, chiaramente se arrivano a un fondo punto punto, ognuno si gioca alla vittoria, però mi immagino che Libertas in più rispetto a PL deve poi fare gestione. Tra l'altro, per dire del splendido collettivo che ha messo su Marco Andriazza, la Libertas ha portato nove uomini al riferto e quello che ha segnato meno, Riccardo, ha segnato sei punti, quindi vuol dire che nove giocatori hanno segnato da sei punti in su, segno di gran forza del collettivo. Si parla di un'altra signora squadra, dice bene Marco, anche se dalla panchina entra Tozzi, fratto, forse anche lui, forse andrà gestito, però un super giocatore, questo ragazzo d'Orin Buha, che mi sembra sta facendo molto bene. Ieri sei in dieci minuti. C'hanno anche a Linegra, su 2004, cioè, bella squadra, secondo me, ottima squadra. L'infortunio di Terenzi l'avevano preso un mese e mezzo fa, se non sbaglio, per dare un po' più di profondità agli esterni, in bocca al lupo a Diego, mi viene da dire, un peccato che devo stare a fermo per un po'. Sì, stagione finita, mentre Lucarelli probabilmente per i ploff rientra. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, 13 di Fantoni, in 23 minuti con sei rimbalzi, 8 più 9 di Tozzi, 12 di Bagnesi, che è un periodo che sta giocando abbastanza bene. Una squadra, penso che tu abbia tirato un sospiro di sollievo, Manolo, quando hai visto che sono nell'altra parte del tabellone di pre-off, no? O mi sbaglio? No, certamente, come diceva Marco, per l'incassi sarebbe stato buono, però non si no, pensare di fare una finale, di derby, eventualmente su cinque partite, penso poi, abbiamo già dato, l'estate ci vediamo, cattà con il cucchiaino, davvero. No, e poi a di là di questo, che sono battute naturalmente, poi quello che era lo sport, dovevamo accettarlo, questo è il fatto di essere arrivati i primi e i secondi, di essere in due tabelloni, potenzialmente potrebbe, dare la possibilità a tutte e due di raggiungere il massimo obiettivo, poi tra cui, dal dire il fare, naturalmente, ci sono tre serie, sappiamo che il pre-off, poi è un altro campionato, tutta un'altra storia, per cui ognuno dovrà, davvero, faticare sette camisce, per cercare di portare casa alla partita. Allora, nel frattempo, il nostro amico, che evidentemente ci sta seguendo, ha rimanato il messaggio, lo leggiamo, dopo aver dato un'occhiata, però, alla partita di Piombino, Piombino che, dopo aver vinto soltanto una delle ultime quattro, rifiola 100 punti a Omegna, 184, Omegna presa Picconate, perché questo brutto termine? Perché Piccone ne mette 34, in altrettanti minuti di gioco, con 7 su 8 da 2, 5 su 10 da 3, insomma, una partitina ha fatto. 34 punti, in 34 minuti, è una squadra che segna tantissimo, una squadra molto, molto offensiva, a volte, anche facendo delle scelte, mi sembra una partita, che poi è andata a penne, cioè, andata a tirare 7 secondi alla fine, concedendo poi, il tiro alla vittura. È una squadra, però, molto bella a vedersi, l'ho vista due volte a Livorno, l'ho vista qualche volta in TV, forse è la squadra, secondo me, con la PL, che è più piacevole a vedersi. È una squadra che punta, più della PL, molto sulla parte, fase offensiva, perché poi comunque PL, difende anche forte, difende bene, fa molto organizzata, fa spesso dei cambi a tre, nelle rotazioni difensive, quindi Piombino punta, punta molto di più sull'attacco. Oltre a Piccone, che ne ha messi 34, 22 di Dezzardo, 15 di Venucci, oltretutto, ha vinto anche lotta sotto i rimbalzi, Piombino, che ha tirato benissimo, perché ha tirato 26 su 43, da due punti, che vale il 60%, e 11 su 29 da tre, con il 38%, del resto, non si segnano 100 punti, se non si tira con medie super. Piombino, Riccardo, è certa dei playoff, bisogna vedere come arriverà, se quinta, sesta, settima, ottava, però sicuramente, è la mina vagante, perché noi abbiamo avuto tanti coach, qua in studio, e tutti, nel fuori onda, ti dicono, nei playoff, Piombino, voglio evitarla. Squadra ha 100 punti, nelle mani, possono, a dei tiratori sull'arco, micidiale, perché Venucci, che è rientrato, magari ruba a tiri, a piccone, però Fabri, ragazzo in gamba, e quindi, lo conosco anche personalmente, so quanto si allena, ed è bravo, anche disponibile. Sicuramente una mina vagante, sì, ora sono settimi. Sì, adesso bisogna vedere, perché, come andrà all'ultimo turno, potrebbero arrivare addirittura a quinti, così come potrebbero scivolare all'ottavo posto, ma sicuramente, sono certi, della post-isono. Perché Legnano, perdendo contro Libertas, sì, poi hanno 2-0 con Legnano loro, quindi, negli scontri diretti, se rimettiamo un attimo la classifica, loro sono favorevoli, li hanno favorevoli con tutti, con Legnano addirittura, 2-0. Marco, una squadra, molto bella a vedersi, eccola qua, la classifica, vedete, dove si posiziona, Piombino, a 4-34, assieme a Piacenza, e Sant'Antimo, con entrambi allo scontro diretto, favorevole, così come a 2-0 con Legnano, di cui, da queste considerazioni, play-off assicurati. Marco, dicevamo di Piombino, parliamo anche di Gemma, Gemma che ha perso 61-59 in casa, con Avellino, sprecando l'opportunità di chiudere, al quarto posto matematico, già da questa sera. però anche Gemma, al di là del fatto che ha segnato, soltanto 25 punti, negli ultimi 20 minuti, nel secondo tempo, è una squadra che sta facendo, un grande campionato, e al play-off, a chiunque tocchi, sarà da prendere con le molle. Eh sì, è stata un po' una squadra di rivelazione, ha comunque dei giocatori interessanti, il Mazzantini è uno giocatore, che in queste serie, ci sta benissimo, tra l'altro veniva da Piombino, anche Mazzantini. Devo dire, eh, esatto, tornando indietro sul Piombino, ha un palazzetto piccolo, che sarà sicuramente gremito, e devo dire, avendoci giocato, e alcalinato a Piombino, lì si respira basket, sette giorni su sette, così come con Montiatini, in Livorno, quindi, è sicuramente una piazza, dove il basket, è un punto di riferimento importante. Su Gemma, Riccardo, peccato per l'occasione, sprecata con Avellino, ha tirato male, soprattutto da tre, Gemma, ma soprattutto ha perso, la lotta al rimbalzo, 36 a 26, e quando si perde, la lotta sotto le planche, diventa difficile vincere. 10 rimbalzi di differenza, fanno sicuramente la differenza, il punteggio basso, forse non premia, Gemma, Quadra, e comunque, deve fare anesto, e prendere energia dalla difesa, per poi, riattaccare, correndo, tirando fuori, anche dal perimetro, col punteggio basso, e percentuali rivedibili, se poi perdi anche la lotta al rimbalzo, ci può stare, lo scarto minimo, minimo, sì sì, tra l'altro c'è un frame che gira su Facebook, sembra che l'ultimo tiro di Avellino non fosse buono, però insomma, al di là di questo, quando la partita arriva punto a punto, può succedere davvero di tutto. Diamo un'occhiata alle prestazioni individuali, 12 di Passoni, che sta facendo un grande campionato, 11 di Mastrangelo, e 11 anche di Mazzantini. La Giamma si giocherà il quarto posto, nella prossima trasferta, se non mi ricordo male, ma potrei sbagliare, vado a memoria, a Desio. Questo per quanto riguarda la Serie B nazionale, andiamo a vedere, a leggere il messaggio che il nostro amico ci ha cortesemente rimandato, buongiorno e saluti, buonasera e saluti agli ospiti, volevo fare due domande, una a Manolo e una a Riccardo. A Manolo volevo chiedere, dove la PL giocherà i play-off? Sia al Palamacchia o al Modigliani? I primi due turni, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovremmo giocare al Palamacchia. Se poi, naturalmente, sarà che si riuscirà a fare la finale, poi, con molta probabilità, saremo, tra virgolette, costretti, quasi sicuramente, ad andare al Modigliani. I primi due turni, se passeremo anche il primo, dovremmo giocare al Palamacchia sicuro, secondo probabile. Poi, a Riccardo, invece, volevo chiedere, se ancora la sciarpa, che gli regalai? Va bene, ciao, bellissimo. Sentiamola questa storia. Tra l'altro litighai anche, non so chi, forse, ma no, c'era di sicuro in tribuna, ora non nella parte di quelli che mi offendeva. Se le tifosi PL, mi sembra che abbiano sempre... Infatti, mi regalarono questa sciarpa al Filarete, me la portarono giù, qualche tifoso non la prese bene, in realtà, io apprezzai tantissimo, è attaccata al Filarete, è rimasta lì, nella segreteria, nel mio ufficio, e tutti i giorni la vedo. Ho sempre avuto un buon rapporto. Sì, no, no, infatti, sei sempre stato un coach amato da tifosi. Grazie, grazie, ho accettato, gli sfottò, ma sempre... Vabbè, fanno parte del gioco, dai. Insomma, molto volentieri, sì, una volta ero in carrozzina, mi dicevano salta o noi, sai dalla carrozzina e con la gamba rotta mi misi a saltare, storia vera questa, storia vera. E se verrà a vedere almeno una partita dei playoff? Volentieri, volentieri, ti aspettiamo. Un po' più tempo libero, ora volentieri. Bene, allora, chiuso l'argomento Serie B nazionale, ricordo, domani alle 21, lo speciale di Toscana Basket dedicato al derby labronico, noi ora ci fermiamo, diamo la linea alla regia, torniamo andando a parlare di Serie B interregionale. Dentisti Il Sorriso, massima professionalità, impegno e qualità. A vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti e addette alla segreteria. Dentisti Il Sorriso, il sorriso amico a fianco del cittadino. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e il reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e oltre cardiaci e pressori anche a domicilio. Ordine acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti per starti sempre più vicino. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrosseria Marsili a Livorno in via Cessoni 59 telefono 0586 40 96 40 Livorno 24 Livorno 24? Livorno 24 Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente Il giornale online che ci appartiene Livorno 24 www.livorno24.com Più o meno Consulenza Energetica Agenzia leader nel settore luce e gas Operiamo Volture Subentri Cambio fornitore e telefonia Chiama Marco per una consulenza gratuita Bene, rientriamo in studio andiamo adesso a parlare di Serie B Interregionale il campionato nel quale milita la squadra di Riccardo Zanardo andiamo con i risultati sempre previo nostro spottino del nostro sponsor che non finiremo mai di ringraziare i risultati della Serie B Interregionale sono offerti da Time Out Sport Lab Eccoli qua andiamo a vedere velocemente nel plane gold vittoria di no, questi no, questi non vanno bene Ale sono quelli della scorsa settimana ce l'abbiamo? arrivano subito comunque allora ve li racconto c'è stata la vittoria di Salone nello scontro diretto con Empoli che metteva in palio sostanzialmente il primo posto ha vinto Empoli poi la vittoria di Gazzada a sorpresa su Cecina la vittoria della Virtus Siena su Casale Monferrato e la sconfitta di San Minato a Pavia la classifica l'abbiamo? allora poi andiamo a dare un'occhiata anche alla classifica sicuramente qua Riccardo prima di entrare nel merito del plane gold plane silver voglio parlare della tua squadra a parte la sconfitta di ieri la classifica a parte ieri la sconfitta con Collegno che contava a zero finalmente si può dire che avete raggiunto la salvezza già da qualche settimana obiettivo raggiunto in estrema sintesi no? obiettivo raggiunto in estrema sintesi poi potremmo non abbiamo tanto tempo per elencare tutti gli infortuni che hanno colpito la dottura è stata un'annata lunga sicuramente siamo contenti hai detto bene te obiettivo raggiunto per noi Olimpia Legnaia fare il sondanno di seguito in una categoria con la B davanti è sicuramente un lusso tanti spunti per la prossima stagione facciamoci trovare pronti però siamo contenti sì se non avessi qualche infortuna di troppo magari il play in silver poteva alpeonarlo dai ci può stare noi abbiamo perso l'ultima partita contro Arezzo e poi era uno spareggio esatto ha portato loro al play in silver e noi si è fatto i play out senti tu sei fiorentino puro sangue si sente anche dalla parlata perché ti manca qualche c quanto orgoglio c'è da fiorentino essere il coach della prima scuola di Firenze parecchio tantissimo io sono un ragazzo di Firenze che fa palacanestra a Firenze quindi solo orgoglioso di rappresentare la mia città seppur nel nostro piccolo anche un lavoro è quello dell'allenatore siamo in pochi a farlo in città tanti giovani appassionati è un movimento che deve sicuramente crescere rispetto a Livorno abbiamo un sacco di cose da imparare però la potenzialità c'è perché chi a qualche anno come Manolo come il sottoscritto come Marco si ricorda di Jim Jones JJ Anderson quindi insomma Neotro Roberts Neotro Roberts no si faccio una battuta non ve ne vogliate vi voglio bene però insomma mi sono passati è vero un po' questo ha perso il diritto di parola per tutta la trasmissione ne è passato un po' d'acqua bisogna tornare a far qualcosa di importante con pazienza partendo magari dalle giovanili però bisogna provarci per forza può essere la tua squadra la tua società il volano verso la definitiva di nascita del basket a Firenze non lo so noi siamo una società piccola di un quartiere sicuramente ci manca tanti tasselli per sognare in grandissimo non smettiamo mai di sognare cerchiamo sempre di fare le cose al massimo però per costruire una struttura e fare una bin nazionale o qualcosa in più ci vuole altro in questo momento noi non so se siamo pronti per fare un passo il genere rimane lì l'anno prossimo guardiamo anche il ruolo di sicuro vediamo si vediamo non ti sbilanci no non mi sbilancio non mi sbilancio mai solo quando io ci ho provato la domanda era doverosa abbiamo ripristinato Ale? bene allora diamo la classifica poi i risultati al limite li dico io però la classifica è importante per vedere cosa sta accadendo in questo campionato la classifica della serie B interregionale è offerta da mobilificio paretti arredamento di interni allora questo è il playing gold ricordo che manca una giornata al termine della seconda fase Saronno matematicamente prima a 40 minuti dal termine Empoli lo stesso matematicamente seconda Cicina a quota 16 poi Pavia a 12 la Virtusiana anzi Pavia a 14 Virtusiana a 12 fuori da giochi si è amminato a 8 ricordiamo che vanno ai playoff le prime 6 nel playing gold vanno ai playoff le prime 2 Quarrate è già certa non solo dei playoff ma anche del primo posto si giocano il secondo posto a disposizione Spezia e Luca Luca dove gioca tuo nipote no Manolo sta facendo un gran campionato un grande campionato è vero anche lui passato dalla PL è nato e vissuto con un cognome del genere non si può giocare non giocare tu l'hai nato un po' di parte buon giocatore è sempre fatto meglio in ogni campionato che ha partecipato dalle serie minori fino a arrivare rimettiamo la classifica le dicevamo qui se lo giocano Spezia e Luca Spezia avvantaggiata dall'avvantaggio nello scontro diretto quindi se nell'ultima giornata batte Gallarate è sicura di partecipare ai playoff non so se anche Gallarate vincendo con Luca e rispetto a Spezia Gallarate deve Gallarate deve vincere e sperare che Luca perda quindi non è semplice non è proprio fuori del tutto no no può sperare se vince a Spezia e poi Luca perde l'ultima passa Gallarate nel playoff invece l'Olimpia è già certa da qualche settimana della salvezza sta facendo veramente molto bene Castelfiorentino che ha vinto l'ultima giornata mi pare con oleggio se non vado errato e settima vittoria consecutiva in casa aspetta l'ultima giornata per guadagnare la salvezza diretta è un grande risultato considerando da dove partiva nel playoff la compagine di Castelfiorentino questi sono i risultati andiamo con le parole partiamo dal playing gold partiamo Riccardo da te perché questo campionato lo hai giocato le Toscane Empoli ieri ha perso una grande occasione con Saronno è stata in partita fino alla fine poi l'hanno spuntata i Lombardi di sicuro si giocavano il primo posto fattore campo sicuramente importante Saronno secondo me squadra attrezzatissima e anche Use non ci dimentichiamo e poi ha tre giocatori senior gli altri sono tutti ragazzi quindi il campionato di Use abbiamo le immagini Ale mettiamole prego Riccardo secondo me insomma stanno facendo benissimo il fattore campo aiuta l'esperienza di qualche giocatore del roster sicuramente fa la differenza è un giocatore su tutti i giannoni è un ragazzo che sta facendo benissimo 23 ieri quasi di media 20 ne fa 21 di media 20 di Rosselli insomma una squadra che se avesse agganciato il primo posto con il vantaggio del fattore campo per tutte le serie Marco secondo me poteva ambire anche alla promozione comunque se la può giocare lo stesso anche partendo dal secondo piccolo ieri ha avuto una sconfitta di misura insomma contro una bella squadra a quel che ho letto insomma ha fatto una prestazione veramente super quindi sicuramente Empoli essere contento del campionato che ha fatto e poi pre-off come diceva Manolo è tutto un altro campionato insomma assolutamente sì chi ha un po' deluso nello specifico domenica ma in generale in questo playing gold è Cecina Cecina allenata da coach da Prato anche lui passato dalla PL a Gazzada ultima in classifica una squadra che aveva sempre perso finora nel playing gold invece Cecina ha perso all'overtime dopo aver sprecato con Turini il libro della possibile vittoria peccato perché si era messa bene Cecina era avanti di 14 abbiamo anche qua le immagini nonostante 19 di Turini e 15 di Bruni Manolo una sconfitta che fa male sì certo Cecina ha tradizione la società per cui sicuramente le ambizioni era quelle di cercare di fare il massimo possibile per giocarsi le chance di aumentare la promozione perdere poi in questo modo essendo come poter tra virgolette essere successo ieri a noi sicuramente fa male però sicuramente ha le possibilità per giocarsi playoff ha giocatori di esperienza per cui le qualità per poter far bene ci sono tutte Riccardo secondo me Cecina come roster probabilmente quanto meno tra le toscane è la scuola più attrezzata non so come la vedi tu una delle più attrezzate io sono mece a Virtusiena a me piace una squadra completa lunghi a playmaker a esterni tiratore a esperienza ai ragazzi giovani anche del vivaio come Costantini insomma sono giocatori forti ha allenato il babbo questi fanno a Nestor Tiro tre punti c'hanno anche un fratello 2009 gioca a Castelfrontino di Certaldo è lui il padre il padre ha una mano stupenda anche lui viene da mezz'ana tiratore mortico lui aveva problemi fisici mano a mano super ha preso dal 2 Cecina se non sbaglio ieri aveva due giocatori infortunati però ieri tutti aspettavano che vincesse tra l'altro avrebbe agganciato Empoli al secondo posto poi se la giocava nell'ultima nell'ultima di di questa seconda fase perché Empoli ha il vantaggio dello scontro diretto con Cecina da Cecina alla squadra che Riccardo dice essere molto attrezzata la Stosa Virtusiana che si è ripresa seconda vittoria consecutiva ha vinto a Casale Monferrato tirando col 59% da due punti 19 di Bartoletti 16 di Diminic unica pecca in una bella partita 10 su 22 dalla lunetta la Stosa ha cambiato allenatore Via Lasi tre settimane fa Braccagni ha steccato la prima pavia poi due vittorie consecutive secondo me la Virtus come dice Riccardo è una squadra a tenere molto molto d'occhio nei playoff Marco non so se sei d'accordo sono contento per Braccagni perché è un amico quindi mi fa piacere per lui ecco qua le immagini abbia ottenuto questi risultati Virtus Siena ha comunque tradizione pur venendo a un campo suo diciamo di pertinenza quindi proseguo con il vecchio Orleia che mi sembra rappresenta un portretto di un mondo esatto e sarà comunque una squadra che c'è Orleia faceva parte anche di quella finale fatto male è rimasto soltanto lui perché la Virtus Siena vinse la finale 3 a 2 contro la PL telecentro presente è vero anche a Siena comunque Ciacina per quello che mi sembra una squadra di un livello superiore anche la Virtus Virtus che ha avuto 19 da Bartoletti e 16 di Dimini Virtus che paga i pochi punti che si è portati dietro nella prima fase ma che nei playoff e adesso ci è arrivata può dare veramente fastidio chi invece l'abbandona ogni speranza di agganciare i playoff è San Miniato San Miniato ha perso a Pavia pagando la netta inferiore sotto le planche però San Miniato che ha avuto 18 da Bella Chioma è una squadra che ha fatto un campionato super 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 squadra completamente rivoluzionata da inizio stagione solo due giocatori che abbiamo tenuto Capozio e Bella Chioma poi ha preso un sacco di scommesse e le ha vinte quasi tutte un modo di giocare molto gagliardo prima squadra delle giovanili giocano duro giocano forte difendono forte pressano forte cambiano su tutto non hanno un 5 vero sono insomma hanno dimostrato e se sono fra le prime quattro un motivo ci sarà di essere sicuramente una compagine ben attrezzata l'estate si fece amichevole c'era una grandissima impressione fu una delle prime partite che facevamo l'estate mi fece davvero infatti un grande intensità mi ricordo subito ci mi sono grandi difficoltà una buona squadra anche futuribile considerando Riccardo i tanti giovani che hanno il roster assolutamente sono tantissimi giovani tantissimi giovani qualcuno scende l'attegoria qualcuno la fa non preso Menconi quest'anno ha fatto una stagione ottima Benjamin Nundur che l'anno scorso faceva l'Ander in una categoria sopra insomma Cravero Lovato che l'anno scorso faceva la Serie B hanno avuto la bravura di tenere un mix e un gruppo forte anche fra di loro li ho visti dentro di noi poi questi ragazzi insomma sono bravi decisamente complimenti a Martelloni bene per chiudere l'argomento play in gold leggiamo un paio di messaggi il nostro amico dice secondo me il campionato lo vince Cecina perché Neppelhoff è la più esperta e poi un'altra ancora attenzione a Empoli in casa è difficile da battere beh lo scopriremo solo vivendo sicuramente noi di Toscana Basket saremo qua per seguire anche i play off del campionato di Serie B interregionale nel play in silver si ferma dopo quattro stop dopo quattro vittorie consecutive l'ho detto Quarrata che si blocca contro Campus Varese Quarrata che però ha fatto un campionato straordinario al di là di questa sconfitta nella quale ha avuto 19 da mustiazza e doppia doppia da 15 ai 13 di Federico Regoli Federico Regoli che lui viene dai campionati di livello inferiore ma sta facendo veramente bene forse il miglior lungo 4-5 del campionato sì perché molto atletico un giocatore ha bene impressionato sempre devo dire Regia guardiamo Marco loro sono già sicuri di passare c'è queste due partite in casa che se la giocano Lucca e Spezia e in caso di vittorie tutte e due Spezia raggiungerebbe diciamo i play off con una squadra che ora hanno delle rotazioni veramente corte peraltro ieri però Sakalas peraltro Caluro è bravissimo a scegliere gli stranieri perché non è sbagliato 34 alla fine 5 su 9 da 3 e poi con 11 rimbalzi per una doppia doppia niente male doppia doppia anche per Tintori 13 più 10 in doppia cifra invece due gemelli Paoli è una squadra Spezia rimanendo in Terra Ligure che nepe off è un po' il discorso che abbiamo fatto per Piombino in Serie B nazionale da evitare assolutamente secondo il mio punto di vista non so come la vedi tu è un po' corta è un po' corta per delle partite diciamo ravvicinate questo sì comunque fratelli Paoli Livornesi dove tutte le estate frequentano Campini e tornei tutti i tornei possibili sono quasi gli imbattibili del 3-2-3 del 3-2-3 sono fortissimi sì un po' la squadra corta la soddisfazione sarebbe per Spezia raggiungere il playoff e poi è una mina vagante non credo che abbia un'ambizione troverebbero Saronno per quest'anno mentre per quello che so sicuramente il prossimo anno cercheranno di allestire una squadra per vincere sì me l'ha detto me l'ha confermato Patron Danilo Caluri che andiamo a salutare Lucca continua a sperare Lucca che ha vinto a Dertona indirizzando la partita nel primo periodo con un parziale incredibile Lucca se non arriva a Ipilov paga quel momento nero caratterizzato da tre sconfitte consecutive però è una squadra che eccole qua le immagini che può battere chiunque se in giornata con i suoi giocatori molto molto forti pensa a Trentin Burgalassi e compagnia bella Barsanti tu ci hai giocato Riccardo io ci ho giocato una squadra molto solida che ha confermato quasi in toto il gruppo dell'anno scorso che non aveva fatto benissimo che non aveva fatto benissimo erano arrivati ottavi insomma si poi avevano perso con Arezzo se non sbaglio due bombe sì all'ultimo bombe pazze di Fornara vecchie sono state tutte e due partite precise uguali tre partite decise dalle bombe di Fornara quindi squadra solidissima all'inizio dell'anno si è compattata e ha fatto un campionato molto molto solido e si vede insomma i risultati parlano mentre Arezzo non ha più speranze di accedere ai playoff ma partiva da soli due punti ha fatto un buon play in silver ha perso a Gallarate facendo una buona partita perché è stata avanti fino a metà del terzo quarto poi i Lombardi anche per le maggiori motivazioni hanno allungato 18 punti per Toglia 15 da zocca per Evangelisti Arezzo ha fatto un grande campionato secondo me Marco Arezzo è qualche anno che fa sempre più di quello che si prevedeva sì fa veramente bene riescono sempre a creare un gruppo che fa sempre i risultati in casa e fuori quindi è un campo ostico sono sono diversi anni ormai che è una squadra da vertice per quanto riguarda invece il play out abbiamo detto della tua squadra dammi un voto al campionato della tua Olimpia Legnaia 8 Olimpia Legnaia prende sempre 8 sempre 8 a casa in cameretta 4 però 4 più 4 fa 8 quindi quindi 8 un po' di rammarico per tutti tutti gli infortuni che hai avuto ce l'hai o fanno parte del gioco fanno parte del gioco ce l'ho perché ovvio e ce l'hai cioè te costruisci noi costruiamo una squadra inizio anno sperando sia quella poi da allenatore devi sei costretto a cambiare assetto tattico almeno 3 4 volte nel mio specifico e cambiare tutto di nuovo la regola difensiva di nuovo il playbook adattarsi non è scontato per noi che si allena immagino che i giocatori devono metterlo in pratica tanti infortuni ma noi siamo contenti dell'esperienza che stiamo facendo e di dove siamo accanto a due persone ci hanno visto rescere che quando noi siamo entrati a fare la Cigold loro già avevano ambizione di provare a fare qualcosa di più sicuramente partivano da un bacino completamente diverso però credo di non dire niente di male se nel dire l'Olimpia Lignaio in questi 8 anni è cresciuta tantissimo con ponderazione quindi 8 8 dai giusto così obiettivo raggiunto Serie B prima squadra di Firenze abbiamo già detto tutto poi un altro messaggio mi anticipa su quello che volevo dire due parole su Castelfiorentino e il suo fantastico play out va detto va detto perché Castelfiorentino si portava dietro soltanto due punti si pensava che l'obiettivo massimo potesse essere quello di passare dal play out invece la salvezza diretta è veramente lì a un passo grazie anche alla vittoria con Oleggio dovuto anche all'11 su 24 da 3 punti Belli Capitan Belli uno che a proposito di Manicalde non scherza ne ha messe 6 su 9 di triple Castelfiorentino ha fatto molto molto bene nel play out Marco Castelfiorentino da quando ha cambiato allenatore quando Angiolini si è dimesso Angiolini che tra l'altro l'ha portato su nella categoria e ora è allenato da un amico di 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 Angiolini proprio da Manetti quindi a volte si creano queste queste maggiori rafforzamenti su dei giocatori in questo caso sono stati responsabilizzati e è cambiato tutto ecco io so che prima pensavano più che altro a cercare di rafforzare la squadra ora probabilmente la squadra è questa e quindi il gruppo si è unito in cercare questo intento e non era facile ma ci sono riusciti si sono vicini a riusciti comunque sicuramente hanno evitato la riuscione diretta perché come erano partiti Riccardo non era semplice no? direi proprio di no loro partivano con due punti se non sbaglio non hanno perso una e basta hanno vinto sei se non cinque forse cinque in casa hanno vinto sette sempre in casa hanno vinto le ultime sette partite casalinghe comprendendo anche le ultime della stagione regolare c'è bene Marco squadra con un'identità precisa squadra con un'identità chiara gruppo molto molto compatto e poi il talento cioè Scali ha punti nelle mani Pucci ha punti nelle mani Corbinelli ha punti nelle mani Belli ha punti nelle mani Kenepi non ha punti nelle mani cioè insomma squadra quasi tutta di esterni gli manca un lungo vero è recuperato degli carri giusto per questa parte gli sta dando una mano però se si accendano possono battere chiunque come stanno facendo assolutamente allora adesso andiamo a vedere quello che è successo in Serie C dove è terminata sostanzialmente la seconda fase nei suoi vari gironcini andiamo Ale con lo spot e poi vediamo prima i risultati e poi la classifica i risultati della Serie C sono offerti da Cosmo Care servizi sociosanitari assistenza domiciliare in Toscana Allora questi sono i risultati della polpropozione ultima giornata vittoria di Costone su Pino Dragons vittoria di Prato su Sancat vittoria di San Vincenzo su Agliana vittoria di San Sepolcro su Menzana nella pool salvezza giornale di quello dove era inserito la squadra di Marco Mori l'OS Livorno salvezza diretta per l'OS Livorno Fides Livorno e Montevarchi che riposava nel Gironè vittoria della Sinegi su Alto Pascio vittoria di Val di Sieve a Carrara vittoria di Ponte d'Era sulla Union Prato vediamo anche la classifica le classifiche della Serie C sono offerte da gruppo Vismederi innovando oggi per la salute di domani ecco qua le classifiche finali perché sono classifiche finali nella pool promozione Costone Siena Menzana Siena San Vincenzo Agliana vanno ai playoff Prato Pino Dragons Firenze Duke San Sepolcro San Cat Firenze terminano qua la loro stagione poi nella pool qualificazione Fides Livorno Fides Montevarchi U.S. Livorno si salvano Cuspisa Bottegone Monsummano e Fucecchio cercheranno la salvezza nei playoff lo stesso nel girone E Val di Sieve Prato Union Prato e Don Bosco si salvano Pontedera Alto Pascio Carrara e Synergy vanno ai playoff Marco partiamo dalla tua squadra al di là della sconfitta con Monsummano comunque l'obiettivo salvezza l'avete raggiunto aggiungo io senza neanche tanti patemi Sì l'ultima partita francamente sono mancate un po' di motivazioni avanti 12 a fine abbiamo perso una partita con un passi fischiato in fondo e preso un canestro proprio da ultimo su un mancato aiuto e poi abbiamo sbagliato l'ultimo tiro in attacco purtroppo come è successo in tante occasioni l'assenza è un po' pesato avete avuto tanti problemi tanti problemi magari meno grossi questa settimana c'è stata la mancanza di Bertolini per un bel evento perché gli è nata la figlia e quindi facciamo gli auguri tanti tanti auguri e quindi diciamo una cosa positiva futura cestista esatto non lo so questo lo scopriremo un po' presto di conto è mancato altre volte per degli strappetti a polpacci è mancato gli ardella si è gestito ci abbiamo avuto veramente tanti infortuni senza di questi abbiamo ottenuto degli ottimi risultati vincendo anche con Costone se c'erano delle poche e perdendo a Costone in malo modo perché avevamo dominato quasi tutta la partita per dire la verità e comunque diciamo voto 6 e mezzo per le scene voto 10 per il gruppo per il gruppo è un gruppo comunque unito che dalle sconfitte si è sempre ben ritrovato è un gruppo veramente che sulla voglia di fare è sempre stato al pezzo devo dire quindi al netto delle assenze dove ci ha visto coinvolti allenarci spesso con moltissimi 6-8 ande e anche di queste che ci hanno dato una grande mano purtroppo alcuni ande per noi importanti hanno avuto a loro volta dei problemi fisici che sono mancati tipo Baggiani Simonetti sono spesso mancati durante l'anno per degli infortuni poi fortunatamente anche tedeschi hanno avuto anche l'infortunio sì assolutamente per quanto riguarda l'ultima partita hai avuto 16 da Stefano Mori che è tuo nipote e 13 da Gliardella quanto è difficile se è difficile allenare il nipote magari è più facile che allenare il figlio no no sì esatto Stefano ha sicuramente un buon carattere lavora lavora è stato ben accettato da tutti è proprio si è inserito perfettamente a dilacca che con me quindi è uno che è cresciuto un ragazzo che è cresciuto anche molto durante il campionato sempre nel punto giusto in difesa diciamo che è stato facile allenare Stefano ci ha dato una grande mano devo dire assolutamente sì l'anno prossimo l'anno prossimo non so ancora niente perché ripeto l'idea della squadra della società è quella di fare un gruppo molto giovane e quindi molto giovane comporta di allenarsi probabilmente con l'Andal 19 prima squadra dobbiamo parlare che quest'anno c'era l'Andal 19 che era Castiglione quest'anno c'ero io prima squadra e il vice era Ramagli che faceva tutte e due non so quale sono al momento insomma le idee per il prossimo anno ecco c'è un messaggio per te volevo ringraziare e salutare Marco Mori e anche da lui che è partita la rinascita della PL mi fa piacere insomma che effettivamente è vero è un dato di fatto era una squadra ripescata dalla Serie D insomma lì abbiamo fatto subito una promozione e Cosmelli era sempre veramente strapiente ha fatto la promozione con San Vincenzo spettacolare sì e poi l'anno dopo lo stato spostamento dal Cosmelli al Palamacchia dove si pensava solo la finale era la finale spostamento traumatic però insomma dai bei ricordi bel gruppo tante amicizie comportanti assolutamente sì ricordo che per chi vuole vivere quei ricordi basta andare non sul canale di Telecentro ma sul sottoscritto ci sono tutte quelle partite se qualcuno se le vuole rivedere potrà notare che anche a quella finale quanti eravamo Marco un paio di mila 2005 forse 2005 sì allora si è chiusa la seconda fase si sono stabiliti anche quelli che sono gli accoppiamenti di playoff e playout ce l'abbiamo Ale? Eccoli qua questi sono gli accoppiamenti nei playoff Vismedieri Costone Siena Agliana Menzana Siena San Vincenzo partiamo da lì senza andare a vedere i risultati di giornata che lasciano il tempo che trovano allora qui c'è una favorita d'obbligo che vale a dire il Costone Siena anche se Agliana è una squadra ostica che è cresciuta tantissimo nel corso della stagione Marco è Costone la squadra più forte voi l'avete battuta una volta e ci siete andati vicini alla seconda abbiamo anche le immagini di Costone mettiamola a video secondo me Costone effettivamente è la più completa come squadra ha tanti senior diciamo bravi Nasello su tutti che è un lusso per la categoria ha dei giocatori che sanno giocare a basket come Andemang banchi hanno bruttini che sia anzianotto ma è di una tecnica sopraffina e in più hanno dei giovani veramente veramente bravi abbassiamo mettiamo a video le immagini quindi Costone ha battuto due volte Menzana e Menzana da parte sua ha un pubblico che non ha nessuno ecco quindi sicuramente in un futuro derby in finale sarebbe di nuovo diciamo un po' ripetersi di Livorno ecco magari un po' meno ma sicuramente c'è un gran pubblico devo fargli elogi a San Vincenzo perché poi arriviamo aspetta non turnare San Vincenzo analizziamo dopo perché l'altra semifinale questa è la sfida tra Costone e Pino Dragons vinta da Costone tra l'altro Manolo anche Costone c'è un po' di PL perché c'è Franzi Zeneli ricordo bellissimo di Francesco ragazzo stupendo è andato via con le lacrime agli occhi per motivi di regolamento non poteva giocare in B se non fosse stato per regolamento naturalmente sarebbe rimasto perché la condizione è davvero grande questo girone al di là questo accoppiamento Costone Agliana ha un favorito d'obbligo Costone Costone nonostante Agliana che sia partita malissimo quest'anno credo sia poi esplosa quindi ha combattuto veramente per arrivare nelle prime quattro un plauso non credo dire niente di male nel dire Costone è la favorita di là la sfida è fra Menzana e San Vincenzo due squadre che nel play in questa fase sono già affrontate a Siena ha vinto San Vincenzo a San Vincenzo ha vinto Siena dicevi su San Vincenzo Marco ha fatto un grande campionato ha fatto un grande campionato cioè due giocatori fuori categoria Bianchi su tutti Persico Persico che ieri non vi sono tenuto a riposo non so se era infortunato o meno che Bianchi ha segnato solo quattro punti quindi ho visto che comunque hanno vinto tenendo questi giocatori a riposo hanno inserito Bini che comunque è un ex giocatore del San Vincenzo quindi conosce l'ambiente è comunque un bel atleta e comunque hanno giocato proprio un bel campionato è una squadra che gioca bene fa sempre un passaggio in più quindi complimenti a loro Menzana ha dominato tutto il girone diciamo B se non sbaglio B e quindi ha perso queste partite contro Costone se la giocheranno ecco però non è facile della due la più equilibrata sì sicuramente sì si allungherà probabilmente questa serie certo che sarebbe bello vedere un derby finale tra Menzana e Costone Riccardo Menzana ti piace? Menzana secondo me non aveva a inizio anno tutta questa ambizione è stata brava a costruire un roster e inserire dei giocatori come questo lungo Prozzec che non è male per niente Puccioni sugli esterni e Marrucci secondo me danno fisicità e talento quindi sono ecco qua le immagini della sfida persa dalla Menzana a Sansepolcro Sansepolcro che interromperà qui la stagione così come Prato così come le due di Firenze Pino e Sancat per Pino Sancat e Sansepolcro un campionato più che positivo qualcosa di più ci si aspettava da Prato Marco dove c'è un altro scuola un altro XPL vale a dire Pippo Magni sì Prato mi sembra che anche Pinelli insomma abbia lo ammesso lo ammesso ha speso tanto effettivamente ha speso tanto l'anno scorso avrebbe potuto fare la B però gli mancava la struttura per poterla fare da ripescata e quest'anno si trova nella solita situazione perché prima delle escluse e credo che non abbia la struttura per giocare a Prato per poter essere ripescata con un roste di tutto rispetto quale Casella Salvadori Forti Artioli è una squadra che avrebbe dovuto essere sicuramente tra le due e quattro così come devo dire che Sansepolcro dove il buono Ameli dice sempre che è una squadra corta ma per scelta per scelta ma insomma hanno fatto due acquisti nel mercato di riparazione che ce l'aveva voluto di avere anche Riccardo insomma dall'altro Ameli lascia la panchina di Sansepolcro dopo sette anni ricchi di successi vediamo chi sarà il suo successore questo per quanto riguarda la fase promozione diamo un'occhiata anche ai play-out mettiamo a video la schermata con gli accoppiamenti perché sono arrivati due o tre messaggi che ci chiedono come funziona e qua non è semplice allora mentre il play-off è semplice perché chi vince il play-off va in Serie B interregionale quindi ricordiamo che si gioca al meglio delle cinque partite la finalissima nei play-out Cuspisa Sinergi Valdarno Bottegone Carrara e questo è un tabellone le due vincenti si salvano le due sconfitte si ritrovano per una sostanzialmente una finale la vincente si salva poi di là Pontedera Fucecchio Alto Pascio Monzummano Derbissimo chi vince si salva le perdenti retrocedono e poi tra c'è l'ulteriore finale tra le due perdenti del secondo turno che porteranno la vincente alla salvezza insomma non semplice neanche da spiegare però qui c'è da dire Marco che nel play-out il Cuspisa ha fatto un finale di campionato davvero da copertina tre vittorie su quattro voi ne avete dati mi pare 25-30 35 35 una partita che per noi voleva dire la salvezza abbiamo giocato veramente veramente forte venivano dalla vittoria loro netta subendo solamente 49 punti con con Bottegone si si stanno facendo bene però è dura questa cosa eh certo da questa parte diciamo il tabellone sicuramente Ponte d'Era che ha fatto un campionato veramente super può essere ritrovato rimasto in questo play-in diciamo dove si deve giocare la salvezza contro Fucecchio un Fucecchio che ha cambiato un po' di giocatori sembrava quasi che avesse diciamo mandato via dei giocatori prendendo due Livornesi con le Spinelli e Mori Francesco e invece sta facendo risultati può sperare anche se non è semplice perché ricordiamolo c'è un nostro amico che chiede se spiego nuovamente il meccanismo allora rimettiamo a video gli accoppiamenti Ale eccoli qua allora chi perde la sconfitta di questi quattro accoppiamenti retrocede le vincenti dei due tabelloni si affrontano nella finale dei play-out chi vince ovviamente si salva le due sconfitte fanno un ulteriore spareggio che garantisce la salvezza a chi lo vince quindi sostanzialmente retrocederanno cinque di queste otto squadre se ti voglio dire anche il Sinegi Valdanno che è arrivato ultimo ha vinto soltanto una partita ha vinto allenato da un allenatore che è molto esperto e anche bravo Bagiani comunque hanno un giocatore ora hanno preso un argentino quindi non è un cliente tanto facile la Sinegi ha perso un sacco di partite in volata di quegli accoppiamenti francamente così a occhi chiusi dire questa squadra vince sicuro non ce ne sono per come la vedo io forse quella di Ponte d'Era si è favorita rispetto a Fuscecchio è favorita rispetto a Fuscecchio diamo un'occhiata anche alle prestazioni individuali per quanto riguarda il Girone ne ha messi 27 nella Nardi dell'Union Prato nella sconfitta a Ponte d'Era Ponte d'Era che ne ha avuto 18 da Regoli 11 da Rauji e Maltomini per quanto riguarda invece la vittoria di Valdisieve che ha chiuso con 7 vittorie consecutive Pescioli una garanzia a questi livelli no? eh sì un bel mestrante un bel maestro sì hanno conquistato la salvezza mercoledì nel recupero contro Valdisieve e poi l'hanno c'era laccata a Carrara 15 di Occhini 17 di Munichi per Carrara 19 di Suriano Simoncini 12 di Seguani per quanto riguarda invece Valdarno 16 di Morandini 11 di Quaglia per Alto Pascio 11 di Doveri nell'altro girone invece abbiamo detto dei 16 di Stefano Mori 13 di Ardella per Monzumbano che secondo me può dar fastidio nel play-out perché è una buona squadra al di là di tanti infortuni 21 di Sommei 14 di Meacci concordi su Ciamantini e hanno anche Manetti che dovrebbe rientrare sì esatto per quanto riguarda invece la Cosbo che ha chiuso con 3 vittorie su 4 ha battuto Fucecchio 22 di Quarta 14 di Fiorindi Arrastelli 12 di Benichetti e di là Bottegone che è un po' in calo ha perso 4 partiti di fila Bottegone quindi devi stare attento nel play-out ha perso contro Fides che ha avuto 17 da Simone Orsini e 16 da Benini vediamo se ci sono dei messaggi al di là di quelli di Sfotò che sono tantissimi proprio sul campionato DC volevo sapere come mai secondo voi Bottegone si è spenta sul finale Marco non è facile perché loro hanno preso questo giocatore tedesco Delage che all'inizio ha subito pagato ha due lunghi molto alti per la categoria Kukai e lui però ovviamente è cambiato qualcosa nel contesto della squadra non sempre quando fai acquisti vedi anche Prato e Poerini hanno avuto anche loro degli infortuni non hanno avuto infortuni gravi di smecca e pacini però hanno preso poi Gerovin e Forti non è sempre così la quadra così facile non stanno giocando bene si affidano molto a Ricci ma spesso quando un giocatore spesso quando c'è un giocatore che segna tanto e fa 28 30 poi non è che paghi tantissimo ecco forse se riuscissero a spalmare un po' punti sarebbe meglio è arrivato un altro messaggio vediamo un po' vi seguo sempre vi seguo sempre siamo malati di palla a spicchi beh ci fa piacere noi ci saremo ci seguo anche domani per lo speciale dedicato al terbi di Livorno ultima domanda è arrivato chiaramente il classico messaggio del nostro amico che ci segue sempre che ci chiede chi vincerà lo scudetto Riccardo lo scudetto di Serie A lo scudetto di Serie A preparati perché fra qualche anno magari c'è il Len si portare borracce e Virtus Bologna Marco il cuore mi dice Virtus Bologna la testa no non so Milano c'è sicuramente poi quando arriva in fondo Milano c'è sempre però io spero tanto Virtus Bologna e Bank insomma Vamolo no sicuramente Virtus è quella che anche a livello di simpatia forse riesceva un po' più di di consensi poi c'è Luca che insomma è stato qua a Livorno conosciamo quindi sarebbe piacere insomma c'è l'ultimo messaggio proprio veramente in zona Cesarini parafrasando un detto calcistico due parole è opportuno dirle anche sulla bella stagione del Don Bosco che si è salvato senza passare dai play out Marco tu a Don Bosco hai allenato una scuola una garanzia è una scuola una garanzia effettivamente e non è neanche facile perché con doppi campionati dell'eccellenza che fanno ci hanno spesso trasferte distanti lunedì rientrano martedì ci sono lì con gli alleni hanno fatto una grande crescita hanno fatto qualche acquisto veramente mirato però hanno fatto un ottimo campionato e hanno vinto una partita importante in trasferta proprio alto pascio sabato scorso sabato precedente che gli ha garantito e non era facile ci sono tante squadre che danno tanto spazio ai giovani però il Don Bosco sostanzialmente è un po' la stella cometa del movimento giovanile cestistico che fa bene appunto a tutto il movimento perché quando si lanciano i giovani si dà anche un messaggio ai giovani stessi no Marco? sì chiaramente riescono sempre a lavorare tanto con la foresteria allenamenti la mattina che ti fanno crescere tanto e poi hanno dato tanta intensità e ho visto anche che a livello di organizzazione difensiva è una squadra che sin dal pre-campionato hanno messo in difficoltà tante squadre sì assolutamente sì questo è il merito di coach Francesco Barilla che salutiamo così come salutiamo e ringraziamo di essere stato con noi coach Riccardo Zarardo coach dell'Olimpia Lennia ciao Riccardo ciao grazie a tutti spero che ne sia valsa la pena di fare 200 km vengo sempre volentieri e noi ti aspettiamo sempre molto volentieri ringrazio di essere stato con noi il coach dell'OS Livorno Marco Mori buonasera a tutti senti ma mi devo mettere in lista per l'anno prossimo ora si prenota eh si prenota perché è stato un bel corteggiamento no? nonostante tu sia a chilometro zero ogni prima sono venuto tante volte vero è vero è vero assolutamente è sempre un piacere averti qua con noi così come è un piacere avere con noi il dirigente della Caffè Toscano PL Manolo Burgalassi ciao Manolo buonasera a tutti ricordo prima di chiudere l'appuntamento per domani alle ore 21 speciale derby di Livorno Toscana Basket speciale derby di Livorno saranno in studio saranno in studio il presidente della Caffè Toscano PL Francesco Farnetti e il direttore sportivo dell'Aker Libertas Livorno Gianluca Mannucchi in collegamento ci saranno anche il collegamento presumibilmente telefonico e due coach Marco Gardani della PL e Marco Andreazza della Libertas Livorno detto questo vi saluto vi do appuntamento non a lunedì prossimo ma a domani per lo speciale di Toscana Basket mentre la versione diciamo così quotidiana canonica di Toscana Basket torna lunedì prossimo un saluto grazie di averci seguiti ricordo se volete potete rivedere da domani mattina la trasmissione sul canale YouTube di Telecentro abbiamo sempre tante visualizzazioni di questo vi ringraziamo grazie di averci seguiti ci vediamo tra una settimana o domani se volete vedere lo speciale sul derby di Livorno